Nel Palazzo Ducale di Mantova, nelle cantine, si trova Moia con le sue bellissime opere, tutte da visitare, naturalmente. Meraviglioso artista di Second Life, chi non lo conosce, Filippo per esempio, tu non lo conosci. Vi ricordo che fino al 25 aprile, dal giovedì alla domenica, queste opere fantastiche che sono state realizzate dal maestro Patrick Moia, mi raccomando. Grazie a tutti quelli che per adesso vi stanno vedendo da Mantova. Ma vorrei giurarti che i giorni ero presto, ma no. Non posso di te non lasciarti in bilicchio mai, o mai. Piuttosto di fuori, che in menti mi muovendo, o mai. A me lo sio, più bello sio. Cioè, praticamente, provi a respirare, alza l'alberto a dire che stiamo su, facendo senso. Tu amami ora come mai, tanto non lo vi... A presto! Grazie, ciao! Fino al 25 aprile, farmi aprire a Mantova le cantine del Palazzo Ducale di Mantova. Grazie.